E' morto il sindaco di Gerace, il decesso è avvenuto nella tarda serata di ieri e la causa è una lunga malattia che ha colpito Giuseppe Pezzimenti, nato a Ferruzzano, il 17 settembre del 1947 e residente ad Ardore. Pezzimenti era un Gerace di fatto laureato in medicina, ha occupato da protagonista e per tanti anni la politica del borgo più bello della Locride, conducendo la cittadina verso un rinnovamento ed un'evoluzione continua al punto che in ogni appuntamento elettivo in cui lui si è presentato dal candidato sindaco ha vinto. E' stato per cinque anni consigliere regionale e poi, dopo l'esperienza maturata tra gli scranni di Palazzo Campanella, è tornata ad occuparsi di Gerace, nel frattempo lasciata per dieci anni nelle mani del suo attuale vice sindaco Salvatore Galluzzo, che aveva portato avanti il suo progetto amministrativo. Giuseppe Pezzimenti era stato eletto sindaco per l'ultima volta nel 2021 con la lista Incude nel rinnovamento democratico e avrebbe concluso il suo mandato nel 2026. La sua prematura scomparsa ha accelerato i tempi di nuove elezioni.